Un'eccellenza italiana da difendere dal clima e dalla concorrenza sleale, parliamo del miele, la cui produzione in Molise ha subito un calo notevole nell'anno appena concluso. Notizie positive però arrivano dal Ministero delle Politiche Agricole, che ha assegnato al Molise un fondo di oltre 77.770 euro per finanziare l'attività di sostegno all'apicoltura per l'annualità 2022. Il miele è un'altra grande eccellenza del nostro territorio, sulla quale è importante investire, ha sottolineato l'assessore regionale Nicola Cavaliere. Il relativo bando, consultabile sui siti della Regione del PSR, nasce quindi con l'intento di incentivare le azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti, ed è rivolto ad apicoltori, produttori apistici e forme associate. Gli interventi previsti nel programma sono sostanzialmente tre. Assistenza tecnica e formazione, contrasto alle malattie dell'alveare e provvedimenti a sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 15 marzo. L'apicoltura ha commentato l'assessore Cavaliere un settore in forte crescita in Molise, importante sia per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente che per le opportunità economiche e occupazionali che ne derivano. Ma occorre superare definitivamente la fase pionieristica e renderlo sempre più competitivo e l'avanguardia. Il nostro Miele, conclude Cavaliere, ha tutte le caratteristiche e le qualità per diventare presto un'altra grande eccellenza, apprezzata anche al di fuori dei confini regionali. Grazie a tutti.